Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione e dalla selezione nazionale piloti oggi puntata numero 136 di Resin Time allora questa maglietta non me la sono messa a caso non è capitato così aprendo il cassetto, volevo mettere proprio questa con questa scritta qua, perché oggi in questa puntata dove analizzeremo le tantissime cose successe nel Gran Premio d'Inghilterra vi voglio esporre una mia sensazione, un mio timore ecco, un mio timore faremo un ragionamento assieme dove vi faccio capire perché sono seriamente preoccupato per una cosa una cosa che ovviamente riguarda questi due ragazzi quindi niente, durante la puntata ne parleremo oltretutto oggi sarà un inizio, una settimana di esperimento perché anziché fare una puntata lunga come facciamo di solito di 20 minuti e più mi è stato chiesto da più parti di dividerla almeno in due e quindi è una cosa che proveremo e vediamo se è di vostro gradimento o meno allora, iniziamo con l'analisi di una gara veramente incredibile dal punto di vista delle emozioni che ci ha offerto e innanzitutto dobbiamo considerare quanto siamo stati fortunati con il botto di Wan Jo perché il pilota della Sauber Alfa Romeo ragazzi ha veramente rischiato tantissime non vi farò vedere le foto che avete visto più e più volte dell'auto distrutta dell'auto messa tra il guardrail e la rete no, assolutamente non è questo il posto per vedere quelle foto lì però voglio soffermarmi anche su una cosa riguardo all'incidente innanzitutto cerchiamo di capire come è stato innescato quello che io vi indico nella foto in alto con la freccia è George Russell ebbene, purtroppo l'incidente l'ha innescato lui perché aveva lasciato una porta aperta praticamente tra sé e il pilota della Sauber Alfa Romeo e allora Gasly si è infilato subito poi a un certo punto lui che ha pattinato tanto a causa della scelta delle gomme lui partiva con le bianche quindi pochissimo grip in partenza cosa fa? va a stringere verso praticamente sinistra per iniziare a mettersi nella traiettoria ideale che gli permetterà di fare curva 1 spostiamo l'attenzione adesso nella foto in basso praticamente cosa succede? Gasly se ne accorge ma pur rallentando perché lì non può frenare il pilota in quanto vi immaginate se dà un pestone sul freno cosa succede dietro? comunque pur rallentando Gasly viene comunque centrato da Russell che poi farà un piccolo pendolo e andrà praticamente a prendere il Wanjou Wanjou, scusatemi, sbaglio sempre nella pronuncia di questo pilota andrà a prendere il Wanjou che praticamente avrà la ruota della sua monoposto che va a fare un po' anzi la ruota della monoposto di Russell fa da trampolino a quella del pilota alfa che salta e si mette così ebbene nel momento in cui si mette così succede una cosa gravissima questa è una roba che veramente ragazzi non dovremmo vedere mai ovvero si rompe il roll bar si rompe il roll bar è una cosa molto molto grave praticamente si è disintegrato e il pilota cinese è rimasto vivo per due motivi uno per l'alo che praticamente ha fatto ciò che di solito doveva fare il roll bar e poi un altro motivo è il fatto che era bassino cioè che si tratta di un pilota basso quindi con il casco, con la parte superiore del casco è andato a sfiorare la ghiaia, l'asfalto ma se fosse stato poco poco più alto quindi alloggiato leggermente più in alto nella monoposto forse ci sarebbe scappato il dramma lui alla fine non si è fatto assolutamente niente e siamo felicissimi di questo però ci vuole un monito particolare da parte della federazione sul roll bar della Sauber Alfa Romeo perché non può succedere una cosa del genere è veramente un fatto molto grave poi c'è stato un altro botto che praticamente è stato provocato da Sebastian Vettel anzi da Sebastian Vettel così si pronuncia praticamente lui ha tamponato poco prima della frenata di curva 1 o meglio quando già il pilota davanti aveva iniziato la frenata di curva 1 Alexander Albon che alla fine tra i due incidentati ecco è stato quello che si è fatto più male perché andava a finire lui in ospedale invece Wan Jo no comunque detto questo da cosa scaturisce quest'incidente? è strano che un pilota praticamente che non è in bagarra a destra aveva tutto sommato pista abbastanza libera a sinistra ancora di più va a tamponare quello davanti non so chi di voi se ne è accorto ma è successa una cosa praticamente a un certo punto io me ne sono accorto guardando per un attimo l'homeboard camera qui vi metto quello che ho trovato poi in giro però durante il Gran Premio se qualcuno dovesse avere le registrazioni può andare a verificare hanno fatto vedere Vettel che a un certo punto faceva questo uno cioè abbassava la tensione verso il cruscottino che c'è nel volante e col pollice andava a schiacciare un bottone poi rialzava gli occhi ma si trovava la Williams di Albon in frenata praticamente noi questo lo vediamo qui marginalmente lui col pollice se ci fate caso che vi ho cerchiato si intravede proprio poco poco nella parte bassissima della fotografia del fotogramma sta andando a schiacciare un pulsante questo è quello che praticamente è successo per questo motivo lui ha perso l'attimo sulla vettura davanti e da lì l'ha tamponato spedendolo contro il guardrail interno poi una manovra invece che dal punto di vista del pilotaggio mi ha esaltato è stata la partenza di Sainz perché è vero che i più forse hanno visto che ha preso Verstappen e lo ha stretto a muro però quello non è una manovra che va a intimidire l'avversario è una manovra che lo costringe a girare la prima curva in maniera particolare adesso vi spiego e tra l'altro questa manovra qui è costata veramente cara a Verstappen vi faccio vedere allora pronti via le due vetture scattano bene però la Red Bull come succede spesso ha una progressione tra prima seconda e terza leggermente migliore da qui affianca Sainz che non vuole sprecare l'occasione cosa fa? lo costringe molto molto interno a un certo punto qui se ci fate caso la linea interna quella bianca dove inizia il tappetino verde si va a ingrandire quello è l'inizio della prima curva cosa succede? che Sainz ha una traiettoria un pochino più larga rispetto al suo avversario che deve girare molto il volante perché Sainz rispetto alla curva si trova qui Verstappen si trova qui quindi quello che all'esterno dovrà usare meno angolo di sterzo quello che all'interno si trova davanti una curva molto più chiusa dovrà girare di più il volante girare di più il volante per un pilota significa avere una velocità minima di percorrenza della curva un po' più bassa da qui praticamente cosa succede? che Sainz gira in pista e anche in maniera abbastanza ottimale Verstappen va sul cordolo guardate quel fumettino bianco bianco che esce dalla monoposto quella è praticamente il fondo che si va a grattugiare tutto a rovinare questo è stato uno dei primi due momenti in cui Sainz ha rovinato il fondo scusatemi in cui Verstappen ha rovinato il fondo perdonatemi il lapsus uno dei due momenti l'altro è successo in uscita dalla COPS poco prima che Sainz commettesse quell'errore sono stato tra l'altro tra virgolette accusato di dare addosso sempre a Verstappen e mi è stato detto ma guarda che non ha fatto nessun errore di guida ha preso solo dei detriti non è colpo suo se c'erano i detriti no in realtà il fondo in due occasioni così come era successo durante le prove libere del venerdì l'ha rotto lui l'ha rotto lui e non solo l'ha rotto lui ma l'ha rotto avendolo già rotto e quindi questa è una cosa che un po' va attenzionata in Red Bull perché il pilota deve stare attento ma questo ci dice anche un'altra cosa che la Red Bull è una vettura che viaggia bassissima più bassa di tutte le altre monoposto e che ha il fondo che flette abbastanza parleremo anche di questo nelle prossime puntate perché c'è una novità fia di quelle veramente pazzesche e se ci fate caso nessuno sta parlando iniziate a domandarvi il perché nessuno sta più dicendo nulla non c'è polemica eppure questa normativa entrerà alle castellese tutto fila liscio e farà parecchio rumore soprattutto a livello di prestazioni ripeto parleremo anche di questo seguiteci andiamo avanti uscita da quella curva come vedete Sainz l'ha affrontata con una velocità maggiore perché aveva meno angolo di sterzo da utilizzare Verstappen è dietro poi ancora primissimo giro andiamo praticamente al momento in cui Leclerc va a superare Perez Allora ve l'ho cerchiato perché ho letto un po' in giro che praticamente a Leclerc andava data la penalità ma di che stiamo parlando allora il pilota scusatemi il pilota il ragazzo che l'ha scritto secondo me è un tifoso Red Bull su questo non ho molti dubbi qui ci troviamo in curva 4 The Loop così si chiama ebbene Leclerc era all'interno poi Perez ha stretto lacco stretto sul cordolo anche perché dall'altro lato aveva la Ferrari di Sainz ma non è da penalità assolutamente questa è l'ala di Leclerc dopo il contatto vedete molto danneggiata soprattutto a livello estetico poco a livello funzionale 5 punti di carico aerodinamico tra l'altro nella parte destra dell'ala dove praticamente tu da quel giri in maniera in senso orario quindi non è un grosso danno circa un decimo e mezzo hanno calcolato a giro ma in realtà forse è qualcosina meno poi un altro punto fondamentale del Gran Premio è questo cioè quando Sainz ha dato la posizione a Leclerc l'ha fatto molto in ritardo rispetto a quando andava fatto e poi soprattutto vedendo come è andato come si è sviluppato il Gran Premio è stato un errore grande però qui praticamente salta fuori la mia tesi ovvero poco prima che cosa gli avevano detto a questi due piloti in particolare a Leclerc che chiedeva costantemente di avere strada dal suo compagno di squadra gli han detto potete lottare siete liberi di lottare e Leclerc ha detto what? cioè come per dire cosa cosa mi stai dicendo cioè ma vi immaginate se sti due facevano casino perché può capitare a quelle velocità ebbene questo è il verme che mi ha fatto venire un pensiero che mi ha fatto venire un pensiero molto molto particolare perché ragazzi allora sbagliare può capitare perseverare dicono che è diabolico ma qua siamo passati al gradino oltre a pensare male mi hanno insegnato che si fa sempre bene nella seconda parte di questa puntata vi dirò che cosa voglio dire bene ragazzi allora la puntata continua iniziamo questo esperimento spero di non incasinarmi e incasinarmi e incasinarvi la vita nel seguire appunto le puntate questa è la prima parte della puntata numero 136 tra un po' un'oretta verrà fuori la seconda quindi nulla continuate a seguirci che andremo avanti sia con l'analisi del gran premio che con questo mio pensiero a dopo grazie a tutti